è arrivato l'ospite Virgi è arrivato l'ospite il grandissimo grande Matte ciao Matteo ciao a te ciao Virginia allora bentornato ti vedo già con questa Polo quest'anno sei a Piacenza se leggo bene stiamo aspettando l'ufficialità più che altro per il discorso del ripescaggio però 99 su 100 99 su 100 firmerò qui sono contento un bel ambiente che ha voglia di ripartire dopo l'annata che è passata quindi ci sta che era un'annata partita con grandi ambizioni l'anno scorso il Piacenza sì allora tutti e due Manto del Piacenza hanno avuto delle siamo partiti tutti e due con l'idea di fare un campionato tranquillo cercando di raggiungere i playoff ma è stata dura per tutti e due loro sono retrocessi diretti noi invece purtroppo abbiamo perso i play out sono partite un po' un po' diverse rispetto al campionato c'è stata comunque una mazzata perché non ce l'aspettavamo però comunque purtroppo nel calcio succede allora Matte ti mettiamo subito lì a rispondere perché prima parlavamo di Achewea no? ci siamo io ho lanciato subito la provocazione mi sono saltati subito tutti addosso io sono chiesto se Ache era tanto più scarso di Wea al netto di quello che hai visto tu o conosci tu come hai visto se l'hai visto giocare Wea in queste partite e come lo giudici e se secondo te è un giocatore da fascia destra dell'aiuto mi senti aspetta problemi con il microfono mi sentiamo male mi senti ora? sì adesso sì vai ok dicevo allora che io l'ho visto giocare per due anni di fila in under 23 ci ho giocato contro è un giocatore fortissimo che ha un'esplosività pazzesca mi ha ricordato con il dovuto rispetto ovviamente quadrado sulla fascia come quinto è un giocatore che da fermo sposta palla e fa i primi due o tre metri con una velocità impressionante Wea è un giocatore di altrettanta forza fisica e di altrettanta straritanza è chiaro che è straripante quindi è un giocatore che dovrà strappare tantissimo è ovvio che a inizio stadione questi giocatori qua magari non hanno ancora la non stanno ancora al cento per cento di conseguenza secondo me non abbiamo ancora visto il miglior Wea poi è giovane è un 2000 se non sbaglio un 2000 99 2000 sì 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 2000 mi sembra di sì quindi aspetta che provo a togliere tolgo le tisse perché non mi sento mi sentite? sì molto meglio molto meglio ok ok perfetto perfetto dicevo è chiaro che un giocatore che dovrà fare venti volte la fascia avanti indietro giocando poi spostandolo quinto è naturale che dovrà tornare quindi sicuramente coperto perché da quella parte lì potrebbe esserci Gatti potrebbe esserci Danilo e quindi di conseguenza può anche guardare un po' di meno la fase difensiva però è chiaro che deve essere decisivo là dove conta cioè gli ultimi 30 metri ok io Matteo posso vai no volevo farti una domanda su un altro giocatore quindi se vuoi Panos continua pure cioè non ti voglio interrompere no no allora finisco solo volevo chiederti se cioè tu di Akech hai parlato del suo essere forte soprattutto in fase offensiva una squadra come l'Udinese che gioca molto comunque sulle fasce in maniera offensiva perché poi dopo ha dei centrocampisti che coprono di più e quindi lascia la possibilità agli esterni di alzarsi di più ecco nella Juve secondo me secondo te Akech aveva qualche difettuccio dal punto di vista della copertura oppure oppure poteva essere allora io l'anno scorso sono riuscito a vedere una sola partita ti trovo un parallelismo sono riuscito a vedere solo una partita dal vivo e dal vivo è diverso che dalla televisione perché dal vivo vedi tutto e mi ricordo era Cremonese Juve perché Cremona è a mezz'ora 40 minuti da Mantua era Cremonese Juve entra Chiesa dopo tutta l'attesa che c'è stata eccetera eccetera entra Chiesa a fare il quinto di destra e ho visto Chiesa fare 70-80 metri di scatto per ritornare in fase difensiva con una voglia matta cioè se un giocatore di quelle potenzialità di quella bravura di quella qualità ci mette anche la voglia di correre all'indietro è normale che fai tanto bene alla squadra e probabilmente anche un po' per età un po' per caratteristiche forse quell'aspetto lì magari un po' gli mancava e quindi magari vai a giocare in una squadra come l'Udinese che è forte gioca bene sulle fasce però comunque non è una squadra che attacca 90 minuti è una squadra che sicuramente qualcosa subirà ovviamente c'è la possibilità di difendersi un po' di più e quindi con un allenatore come Sottil credo sia rimasto Sottil no? Sì sì con un allenatore come lui sicuramente hai più più occasioni per difendere e quindi crescere sotto quell'aspetto lì Io a Matteo volevo fare una domanda su qualcuno che magari anche per il reparto magari conosci perché non so se magari puoi anche averci giocato insomma io volevo farti una domanda su Meretti perché è un giocatore che durante questa turnia in stiva sta facendo cioè possiamo dire bene nel senso ha fatto una partita contro il Milan è stato uno dei migliori in campo anche contro anche contro il Real ha giocato bene è un giocatore che però insomma è dato in uscita verso la Salernitana quindi vorrei chiedere un giudizio su questo calciatore quanto pensi che possa fargli bene un eventuale prestito in A e se magari invece lo ritieni un giocatore che potrebbe dare il suo magari anche alla Juve riuscire a continuando a rimanere riuscire a confermare ti rispondo subito che l'anno scorso secondo me Miretti ha dato il suo contributo in un'annata difficile per tutti quindi cioè se lo aspettavamo tra virgolette al varco Miretti l'anno scorso ha dimostrato di poter stare nella Juve secondo me è chiaro che in una Juve come quella dell'anno scorso in una Juve come quella di quest'anno perché si parla già di una Juve di 4-5 anni fa è diverso è un Miretti diverso che magari fa come Marchisio ai tempi che gioca non gioca entra 20 minuti 15 18 35 una volta titolare le sensazioni sono quelle poi dopo è normale vi dico Miretti è un giocatore forte perché l'ho visto giocare anche in under 23 ed è un giocatore forte che ha qualità che sa dove sa dove è in campo ha dei tempi importanti di ferimento è un giocatore che gioca già con una certa serenità con una certa attitudine da squadra che deve vincere quello che quello che penso è che probabilmente per quello che vede Allegri come abbiamo sentito due anni fa uno o due anni fa un'intervista che diceva che i giocatori fino a 24-25 anni devono andare in giro a giocare vedere e capire un po' la serie B poi devi giocare per salvarti in serie A poi devi giocare per fare per centrare le coppe in serie A per Allegri il percorso giusto è quello secondo me se uno vuole cercare di crescere i giovani più in fretta possibile deve tenerli nella propria squadra secondo me quelli che quelli su cui pensi di poter contare negli anni basta pensare in Premier League a quelle squadre che hanno i diciottenni i ventenni li fanno giocare come se non ci fosse un po' non ci sono problemi non hai Matteo secondo te Miretti dal punto di vista testa perché io l'ho visto entrare benissimo le prime due o tre partite con la Roma fece quella partita fantastica eccetera poi dopo quell'episodio che secondo me è assolutamente sfortunato del rigore contro il Benfica mi è sembrato mi è sembrato un po' che avesse quasi la paura di sbagliare un po' più di paura di sbagliare la domanda che ti faccio è secondo te è pronto mentalmente perché secondo me tecnicamente c'è il giocatore un po' fragilino non si discute è chiaro magari sotto l'aspetto fisico è dura tener botta in quelle in quelle in quelle categorie in quelle dimensioni lì di calcio come la Champions come l'Europa League è mentale non lo so io quello che ho percepito è comunque di un ragazzo che si applica tanto che è generoso e che comunque ha qualità è un 2003 l'anno scorso ha 20 anni è un errore di quel tipo in una partita così decisiva è normale che può può pesare a tutti anche al trentenne può pesare quindi mi ricordo come eri incazzato tu uscendo dalla partita con la Next Gen quest'anno mi hanno tirato il pallone addosso mi hanno tirato il pallone addosso ho fatto autogol sotto l'incrocio e io per me era come aver perso 4 a 0 quindi sì e proprio dipende sempre anche come reagisci io ho avuto la fortuna la bravura anche l'esperienza sicuramente di dire settimana successiva è un'altra partita alla fine non se ne parla più magari Fabio l'ha vissuto in maniera diversa non lo so è dura commentare da fuori è sempre dura è sempre dura è sempre difficile Cash ti fa questa domanda ti sarebbe piaciuto avere l'under 23 ai tuoi tempi? ma allora è chiaro l'ho detto miliardi di volte guarda che giocatori come Miretti come Fagioli come lo stesso Ache e Sule sono giocatori che probabilmente andando in prestito in Serie B negli ultimi 2-3 anni magari non trovavano quella fiducia che nell'under 23 invece si sono sentiti perché nell'under 23 bisogna ragionare sul fatto che l'over il giocatore grande che c'è ad esempio Iocolano negli anni passati c'è stato Fausto Rossi negli anni passati precedenti al CB ed insomma comunque i giocatori grandi che farebbero da chioccio in teoria la prerogativa che ti chiedono quando vai lì è non sei tu al centro del progetto o meglio tu sei al centro del progetto però devi portare loro sopra cioè devi fargli fare un salto di qualità quindi il giovane e il ragazzo rimane al centro del progetto e si sente importante si sente coccolato sì è ovvio che la risposta a quella domanda è sì mi avrebbe fatto tanto piacere ma più che piacere è che mi sarebbe servito molto di più rispetto a un prestito come è stato quella a Pordenone che ho fatto quattro presenze e non c'era fiducia ma perché giustamente le società vedono i propri conti si fanno le proprie ragioni quindi l'Under 23 secondo me è un percorso fondamentale e quindi adesso mi incuriosisce questa cosa l'ho sempre pensato perché poi vedevo i prestiti delle società non solo la Juventus ma anche l'Ital Milan insomma andavano dalla primavera alla squadra di Serie C e o erano fenomeni assoluti totali pochissimi 5% 3% o era che si rompeva quello che era il titolare quindi giocavano prima loro si prendevano il posto e quindi poi era più difficile toglierli se no tendenzialmente erano fuori dal progetto è così io ti dico per come l'ho vissuta io secondo me secondo me la strada più giusta da fare era uscire dalla primavera e giocare più andare in una squadra dove giocavi più partite possibili magari meno blasonata magari meno con meno obiettivi importanti da raggiungere però giocare in una squadra dove tu facevi 30-35 partite perché a 20 anni 30 partite fatte in un campionato come quello di Serie C che non me le vogliano tutte le altre tutte le altre categorie ma è un campionato che ti forgia ti dà tanto perché giochi con gente grande giochi con gente che ha già esperienza quindi comunque ti dà tanto e ti dico non è un errore perché non è stato un errore è stato un percorso sbagliato solo quello probabilmente avessi fatto 35 partite in una squadra che doveva giocare tranquillamente il suo campionato magari prendevo più fiducia in me magari prendevo più conoscenza più confidenza con con l'ambiente con la categoria quindi magari uscivi prima certo Virgi hai tu delle domande io un'altra domanda ce l'ho su Ealing che è un altro giocatore che nella prima squadra secondo me potrebbe far molto bene l'ha fatto vedere nelle poche occasioni in cui quest'anno l'abbiamo visto abbiamo visto anche segnare il primo gol io ti volevo chiedere il potenziale che ha questo ragazzo perché insomma magari l'hai visto più da vicino rispetto a quanto l'abbiamo visto noi prima che arrivassi in prima squadra ma assolutamente guarda Ealing è secondo me il giocatore dei giovani è il più europeo che abbiamo cioè quello che ha più prospettiva e più 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 margini di miglioramento io sono sempre di questa idea che un Ealing fosse arrivato dal Chelsea Ealing avrebbe già 100 presenze in prima squadra io sono di questa idea qua un giocatore come Ealing all'Arsenal al Chelsea al 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 Liverpool sono giocatori che in altri campionati fanno meno fatica a venire fuori proprio perché non hanno paura di farli giocare secondo te non hanno paura ma soprattutto Albi soprattutto io percepisco nei ragazzi che vanno che entrano in campo la percepisco non questa paura perché non è paura perché poi alla fine non hanno paura stai facendo la cosa più bella del mondo e non è paura ma questo peso di dire se sbaglio sono rovinato cioè se sbaglio non mi fanno più giocare quindi sto lì nel limbo cerco di sbagliare il meno possibile non rischio la giocata e giustamente mi dici Ealing invece è quello che le ha rischiate più di tutti Ealing ma te lo ricordi che entrò ben figa quando entro cioè ho detto ma questo è straripante anche lui è allucinante questo sembra che giochi da 30 anni però da questo punto di vista forse su Miretti potrebbe aver pesato magari gli errori che ha fatto nella fase iniziale della Champions League che è stato un po' il momento in cui eravamo arrivati noi con le aspettative altissime sbaglia con le due tercosette causa il rigore se non sbaglio contro Benfica e da lì poi c'è stato un po' di calo nelle sue prestazioni è un po' uscito dalle rotazioni cioè quanto pesa un errore in una partita importante quando si è così giovani ecco questa è anche la domanda L'errore Virginia l'errore pesa pesa sempre nel senso che comunque è un errore certo devi cercare di migliorarti di non commetterlo più quello è l'importante cioè sempre come come reagisci all'errore Ealing secondo me ha avuto sì scusami Miretti secondo me ha avuto quel calo che ha favorito Fagioli durante l'anno perché se ci ricordiamo Fagioli ha fatto un periodo iniziale dove sembrava fosse fuori completamente dalle gerarchie neanche il quinto cioè era proprio il sesto e appena Miretti ha battuto un po' la fiacca ma non è così perché poi alla fine è un calo fisiologico che ha un giocatore soprattutto a quell'età è venuto fuori Fagioli e quindi di conseguenza inizia a fare il paragone ma se gioca Fagioli la squadra attacca di più se gioca Miretti la squadra invece è un po' più equilibrata però Fagioli si vede poi Miretti gioca anche un ruolo non suo ha giocato tante partite sotto punta Matte dimmi tu anche come lo vedi io non l'ho mai visto come sotto punta ma se ci ricordiamo se ci ricordiamo quando giocava Giovinco sotto punta iniziavamo a dire che non esiste più il trequartista che Giovinco per me è uno degli ultimi dieci più forti d'Italia cioè se criticavamo Giovinco figurati se uno se un tifoso normale non critica anche Miretti che lo vede sotto punta ma perché? Perché lì ti aspetti che un giocatore faccia stravolga la partita e non puoi pretendere che un ragazzo di vent'anni ha la sua prima esperienza Serie A faccia quello a meno che non è baciato qua sopra dal talento e ti chiami Messi e ti chiami Hazard e ti chiami eccetera eccetera e a vent'anni fai le cose che fai normalmente a 30 certo certo qualcuno ha scritto e non so quanto li hai visti giocare magari fra Asa Mulazzi e Ildiz se dovessi poi interviene da football manager il Matteo da football manager per forza perché vedendoli giocare ho visto qualche spezzone qua là di primavera ma pochissima roba è chiaro che Ildiz ha fatto vedere cose che da primavera non c'entra niente sono curioso sicuramente quest'anno lo vedremo lo vedremo più spesso in C probabilmente sono curioso di vedere come come sarà però non è nel girone con te giusto cioè non sarà nel girone con te tu sei amico sareti amico no no aspetta Piacenza retrocesso stiamo aspettando un ripescaggio non è ancora non è ancora sicuro il ripescaggio quindi si attenderà a fine mese e dovesse essere Piacenza ripescato allora sì sarebbe girone A Piacenza e B la Ilda quindi non ce l'avremo nel girone esatto sicuramente Ildis ha fatto vedere tanto Asa è un mulazzo non lo conosco Asa ne hanno parlato bene a fine anno bisogna bisogna attendere bisogna farli giocare vederli vediamo vediamo Virgina hai una domanda tuione una un po' vai vai un po' provocatori un po' ti faccio fare il centrocampo della Juve cioè questo è il roster della Juve oggi e quindi ti faccio fare i tre del centro tre o due o quattro cioè dipende come la fai giocare tu e poi invece nel 3-5-2 di Allegri se tu la fai giocare in maniera diversa quali secondo te sarebbero i tre titolari di Gerbaudo nel caso dovesse scegliere allora parto dal 3-5-2 secondo me Mezzali io partirei con Rabiot e Fagioli e Locatelli Locatelli davanti alla difesa ok io quindi classico sì sì perché hai Locatelli che è detto ai tempi un Rabiot che è un tuttocampista cioè box to box quindi fa avanti indietro fa benissimo le due fasi finalmente ha trovato continuità come ti dicevo tre o quattro anni fa di un ragazzo che di un giocatore che secondo me aveva un grandissimo potenziale ma a livello mentale non aveva ancora trovato la sua la sua dimensione la sua quadra ora secondo me l'ha raggiunta e questo bisogna dire grazie a Allegri ma Allegri è questo Allegri valorizza dei giocatori che non eccellono nella tecnica però hanno caratteristiche collettive di squadra Fagioli secondo me è un giocatore che farà la differenza nella metà campo avversaria perché poi inizia ad avere più confidenza inizia a conoscerti eccetera eccetera e poi i miretti qualche volta sicuramente lo butteranno dentro io penso che il giovane quando entra deve essere affidabile se il giovane è affidabile sicuramente riesci a riesci a crescere se inizia a non essere affidabile lo vedi sempre meno in campo quello Matteo c'è la chat che sul nome di Locatelli si è scatenata perché non so se segui un pochino il dibattito social ma Locatelli è uno dei giocatori ultimamente più massacrati del nostro centrocampo mi sembra di capire che non sei d'accordo con le critiche che riceve ma no non è che non sono d'accordo è che purtroppo non è messo nelle condizioni per fare Locatelli perché Locatelli al Sassuolo si parlava di un giocatore forte si parlava che poteva essere regista della Nazionale si parlava che bisogna sempre valutare il contesto nella sua totalità Allegri non ti mette nelle condizioni di poter esprimere il tuo potenziale a livello tecnico cosa ti dovresti allora facciamo che vai tu un attimo a dirgli Locke da domani ma no ma non è questione di cosa dire aspetta ma non è questione di cosa dire no no ma io voglio provocarti Matteo come sempre fai bene come sempre no ma sappi che non è questione di cosa dire è questione di come alleni i giocatori come di come di che idea dai perché tu se dai Locatelli a De Zerbi Locatelli diventa valore 40 milioni se tu da zero partendo da zero perché al Milan se ti ricordi l'avevano cacciato via se tu prendi Locatelli vale zero glielo dai ad Allegri ne varrà al massimo 10 e cosa spiegami tu che hai visto comunque degli allenatori diversi eccetera io ho detto cosa dici cosa bisognerebbe dirgli che cos'è che cambia cioè aiutami a capirlo Matteo cambia la proposta della tua idea di calcio cioè Allegri è diverso Conte l'idea di Conte perché l'ho vissuta dal vivo quella di Allegri non l'ho vissuta bene Conte Conte cosa diceva 3-5-2 schiantato i quinti 100 volte avanti e indietro mezzali devono inserirsi a più non posso palla centrale di difesa la gioca al quinto il quinto si riesce di prima per la punta scarico sulla seconda punta inserimento della mezzala opposta vai sul fondo arriva sul fondo cambio gioco di Pirlo l'Istain è stop sposta e metti gli attaccanti devono attaccare il primo palco dipende sempre che idea di calcio hai tu come allenatore ok Sarri è un palleggiatore quindi è uno che cerca di andare in avanti nella metà campo avversaria trovando un fraseggio trovando triangoli trovando soluzioni più dando più soluzioni al giocatore Allegri non è questo non è non è un allenatore che basa le sue caratteristiche sul fraseggio sul palleggio sull'idea un'idea comune Allegri è un allenatore secondo me bravo perché comunque ha vinto e bisogna dargli allenato assolutamente che però gestisce le situazioni lui non le affronta con la sua idea lui le gestisce dall'alto della sua esperienza sia da giocatore perché comunque è stato anche un buon giocatore di serie A di serie B e dall'alto della sua esperienza da allenatore quindi non mi aspetterò mai che Allegri inizierà a far giocare la sua squadra palla a terra due tocchi tutti i movimenti inserimenti triangoli uno due scambio perché non è nella sua indole e non è nella sua idea di calcio lui dice il calcio è semplice bisogna passarla al compagno se la passa al compagno hai fatto il culo è quello quello è però secondo me le amichevole soprattutto io mi riferisco ai primi 25 minuti quelli contro reali perché secondo me se è visto qualcosa non so se sia magari Magnanelli che è entrato da poco che magari ha portato qualche idea però qualcosa secondo me di diverso rispetto alla scorsa stagione poi è chiaro ti ripeto si parla di amichevoli precampionato condizioni siamo durati poco però qualcosa ci ha fatto vedere secondo me allora è quello sono d'accordo con te anch'io vedendo le amichevoli sia con Milan che con Reale sono d'accordo con te ho percepito un'idea un po' più comune ora poi ho letto anche un articolo non mi ricordo più di che di che notiziaro che parlava che con l'arrivo di Magnanelli è cambiata l'intensità durante la settimana mi fa strano pensare che gli anni scorsi gli anni precedenti ci sia stato un rallentamento dell'intensità del lavoro fisico della forza fisica e quant'altro però a quanto pare se così dicono così è stato Magnanelli ha avuto per gli ultimi due anni di carriera del Zerbi come allenatore e poi è stato suo collaboratore se non sbaglio è stato con Dionisi l'anno scorso è stato con Dionisi che è un altro allenatore che ha una proposta ha un'idea e ci prova fino all'analisi magari gli ha dato un po' di carta bianca magari nella fase di possesso dicendo abbiamo bisogno di uno che gestisca la fase del possesso faccia capire ai giocatori qual è il metodo per arrivare a far gol anche io ho percepito un minimo di 20 minuti decisamente brillanti brillantissimi bisogna capire se era a Madrid ha giocato a che livelli a che percentuale stavano di forma ci sono tante cose calcio d'agosto non ti conosco si dice calcio non è una cosa che sento da più anni però è il fatto che non è rispondibile questo comunque è molto interessante è un'analisi molto interessante perché io volevo anch'io capire bene chi meglio di te di uno che comunque sul campo cerca di capire perché noi siamo dei giocatori di football manager al massimo ricercatori di football manager però sul campo certe cose poi non è nemmeno facile poi di essere raccontate ti faccio un altro piccolo esempio per esempio Conte era ossessionato ma proprio a livello quasi da malattia calcistica ovviamente degli undici contro zero l'undici contro zero sembra una stronzata è una cosa bella l'undici contro zero è una squadra che ovviamente attacca la porta con un portiere ovviamente che liga aspetta e tu ti muovi con palla contro una squadra ferma quindi con i paletti con le sagome in base al modulo della partita della domenica della squadra avversaria quindi la squadra avversaria giocherà domenica 4-3-3 ok ci sono i paletti fermi ma è proprio è didattico c'è proprio un lavoro didattico bello bello io l'ho fatto in tutte le categorie in tutti gli anni e un undici contro zero lo fai quasi in maniera come riscaldamento per far cosa però per automatizzare per creare degli automatismi tra i giocatori che sanno quali sono qual è il fraseggio per arrivare al gol faranno ma mi ricordo Conte faceva 30 azioni sulla sinistra solo così 30 azioni sulla destra solo così 20 azioni sul centro solo così 30 cambi gioco solo così 40 passaggi diretti verso la punta fai mezz'ora di questo lavoro qua e dopo un po' ti entri in automatico e tu in campo la domenica anche se è un undici contro zero tu in campo la domenica lo riconosci perché sai che quando il tuo compagno stoppa la palla e ti guarda tu allora devi cambiare direzione e venire dentro il campo quindi vieni dentro il campo allora l'altra mezzala sono piccoli automatismi dei movimenti non so se Allegri li fa non ho mai visto un allenamento di Allegri durante l'anno quindi non te lo so dire sicuramente li fa qualche video li ho visti sicuramente li fa però magari non c'è quell'aspetto ossessivo che ha Allegri che ha Conte scusa che aveva Conte nel farlo poi Conte ogni tanto fermava l'azione e diceva diceva no devi star così no devi metterti così col corpo è proprio come postura sì anche come postura sì perché la postura per ricevere la palla è fondamentale no è quella la cura del dettaglio la cura del però non so dirti se Allegri lo fa sicuramente lo fa perché è un'esercitazione che usano tanto veramente bello 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 vedi abbiamo scoperto delle delle chicche sulla Juve di Conte nemmeno Montblano ci ha mai detto mi ricordo mi ricordo di un anno un anno mi ricordo più se c'era un canale che faceva vedere qualche allenamento di Sarri della Juve e mi ricordo che invece Sarri è un allenatore che basava tanto le esercitazioni gli allenamenti sul possesso palla finalizzato poi magari con la meta con il gol con il totale dei passaggi però se tu fai tanti possessi palla poi in campo cosa ti viene da fare il possesso palla per arrivare al gol quindi ognuno ha il suo stampo esatto gli è mai capitato di vedere la pagina di Instagram o di Facebook della Juve che fa vedere che ne so le azioni durante la settimana gli allenamenti durante la settimana che ci arriva il cross e l'attaccante fa gol davanti alla porta quello è l'undici contro zero cioè non ci sono i difensori se ci fate caso ok quello è l'undici contro zero certo tante quante cose si imparano di lunedì pomeriggio in live adesso faccio mettere la tipologia di allenamento undici contro zero in Football Manager 2024 così andiamo in serie cioè si chiama tattica offensiva quindi tu ti sei letto anche tutto il commento faccio gli allenamenti Matteo io aspetto una tua versione degli allenamenti di FM23 così la pubblico sul sito fatta da Matteo Gerbaldo la settimana tipo ti faccio la settimana tipo la settimana tipo è certo perché così vediamo se se crescono bene Virgi tu hai ancora delle domande ma no stavo un po' leggendo dalla chat c'è tanto apprezzamento per Matteo sei stato un ospite che la chat ti ha gradito dicono tutti che ti rivolrebbero quindi insomma penso sia stato un contributo interessante qualità grande qualità grande qualità Matteo io ti faccio tutti gli in bocca al lupo per la tua stagione innanzitutto perché venga ripescato il Piacenza partiamo da quello tra l'altro una volta era gemellato con la Juve io sono andato tante volte in trasferta a Piacenza eravamo gemellati nonché terra in cui Nedved segna quel famoso gol all'ultimo minuto prima del 5 maggio mamma mia guarda quella sera se noi eravamo disperanti mamma mia mamma mia grande Piacenza sempre bei ricordi sul Piacenza nonché Matteo questo è un aneddoto è la squadra che io ricercai per prima per prendere il lavoro da ricercatore di football manager mi chiesero Piacenza era in serie A dimmi tutto quello che sai del Piacenza quindi io comunque in qualche maniera c'era ancora Maccoppi Luiso cioè era quel Cleto Polonia grandi grandi fantastico sì 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 no vabbè è una bella storia Piacenza entro sono entrato la prima volta allo stadio e sui muri del corridoio ci sono foto e uno non sembra non lo direbbe però ci sono passati un sacco di giocatori a Piacenza ma proprio tanti tanti Zaghi Zaghi Fratelli Zaghi Nainggolan Ubner Francesco ora vabbè ovviamente ora magari neanche me ne venga tanti in mente però comunque a guardare dici cavolo Nocerino tantissimi giocatori tantissimi dai Matti in bocca al lupo allora per questo in bocca al lupo per tu Grazie 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 Buongiorno Ciao 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 Allora andiamo in chiusura io e te a questo punto Virgi io sono molto contento del Io sono davvero soddisfatta perché anche dal punto di vista magari di quelli che sono i giovani appunto una che noi abbiamo visto poco cioè magari avere anche contributi da parte di persone che ci hanno giocato contro che comunque li hanno visti più da vicino è molto Quindi non è un bidone bidonazzo a che è totale eh non è un bidonazzo uno non era preparato ci fidiamo ci fidiamo ci fidiamo l'avevi preparata l'avevi preparata ma non ti dilla no giuro giuro che non l'avevo non sapevo che lui tra l'altro scherzo scherzo no io sono andato a vederlo Matte la partita che che era libera allo stadio Juvenix Gen contro Mantua lo scorso anno facciamo un freddo incredibile durante i mondiali sono andato a vederlo e poi dopo Matte mi ha regalato la maglia ma a che non giocava perché era infortunato e quindi comunque però lui seguendo il campionato poi vedi video come ci ha raccontato sono gente sono professionisti ragazzi cioè certo è gente che non è che gioca così giovedì il calcetto questi questi giocano giocano a calcio e quindi quindi no non lo sapevo io a questo punto invito tutti a comprarvelo al fantacalcio nell'Udinese soprattutto se sarà difensore perché magari assiste lo fa ragazzi bellissimo no però secondo me potrebbe davvero fare una buona stagione all'Udinese magari davvero il prossimo anno ci rientra un giocatore più formato anche cioè potrebbe essere un'operazione che alla fine è giusta alla grande Virgil ho letto che sei una bambina ho visto qualche messaggio di quelli simpatici che una bambina mi fa piacere mi dice che mi dice che sono giovane mi fa piacere no ma ci sta anche a volte non essere d'accordo con la chat fa tutto parte insomma è giusto che non siamo d'accordo su tutto ma ci manca siamo tutte persone diverse io dico sempre che non do mai patente di tifo a nessuno in uno tifa a modo suo ci sono quelli che tifano per un giocatore per un allenatore per tot giocatori per la squadra per la maglia gli piace una maglia l'altro gli piace ma ci mancherà siamo tutti tifosi da U il bello è che questa community permette a tutti di poter dire la propria come giusto che sia e di essere assolutamente in contrasto qualcuno mi chiede cosa ne penso dell'Atalanta oggi ho letto una notizia su Cominers accordo fatto col Napoli e poi ho aperto e c'era scritto sì accordo fra il giocatore e il Napoli però l'Atalanta chiede 50 milioni allora ciao però l'Atalanta secondo me sta facendo una bella squadritta secondo me sì ora è vero quest'anno non hanno fatto benissimo non sono stati continui durante l'anno tant'è che se non sbaglio sono fuori proprio dalle competizioni europee quest'anno per la prima volta dopo un po' di stagioni però insomma Scamacca esatto Scamacca Dechetelare nel caso in cui davvero concludessero l'acquisto è vero col Milan è stato un po' un flop però l'abbiamo visto insomma quando è arrivato era un giocatore su cui c'erano grosse aspettative cioè l'Atalanta è un ambiente in cui di solito i giocatori crescono potrebbe essere una squadra che si iscrive secondo me alla lotta per le posizioni europee Virgi l'Atalanta fa comunque sempre un mercato intelligente poi magari non sempre gli riesce però l'Atalanta cosa gli è successo in una nata in Champions è riuscita a valorizzare uno come Oilund che io sono convinto che se invece di chiamarsi Oilund si fosse chiamato Oilund Axel se fosse stato greco non avrebbe non avrebbero speso 75 ma questo effetto Oilund per cui il giocatore che viene su dall'alto dal nord Europa secondo me gli ha aumentato i 10-15 milioni il prezzo perché la tassa la tassa Oilund hanno pagato una cifra fuori fuori mercato però però ti alza l'aspettativa sulla cessione di Vlaovic perché un giocatore come Oilund che comunque è un giocatore che con tutto il rispetto mi ha fatto poco in questa stagione con l'Atalanta per quanto possa dimostrare di avere prospettiva cioè io non mi posso aspettare un Vlaovic che venga ceduto a una cifra uguale o inferiore a quella con cui è partita lui non so io qua polemizzo polemizzo così di nuovo visto che non ho polemizzato abbastanza e dico che uno uno dei mandati che io devo dare al mio allenatore è se non riesci a vincere almeno valorizzami qualcosa perché alla fine se poi mi valorizzi qualcosa io porto a casa i soldi e miglioro qualcosa qui bisogna valorizzare sicuramente healing è stato valorizzato da se stesso dall'allenatore da qualcuno è stato valorizzato lo stesso anche i fagioli però gli altri che erano patrimonio asset della Juventus non sono stati valorizzati quindi secondo me quello all'interno di tutti gli obiettivi e qua ritorno di nuovo anche a Football Manager mi piace sempre tornare così all'inizio del campionato la dirigenza ti dà una lista di obiettivi che possono essere gioca un calcio offensivo conquista questo trofeo arriva almeno in semifinale valorizza il parco giovani eccetera eccetera ci deve essere una carta un contratto che tu fai con il tuo allenatore con il tuo staff e dici devi fare qualcosa purtroppo non abbiamo visto valorizzare molto Blauvic che io sono d'accordo con te Virgi è il più forte di Oino e speriamo che quest'anno all'interno del pacchetto che venga richiesto oltre a farci divertire un pochino di più perché su questo penso che siamo tutti d'accordo meno valorizzare e poi vedremo poi l'Atalanta l'anno scorso ha fallito varie obiettivi no poi comunque ho svisionato io l'Atalanta si fa l'Europa League come dice come dice lasciando ho svisionato di brutto io lasciando ho preso un fischio per il fiasco eh vabbè vabbè tanto noi l'Europa non la seguiamo quest'anno non ci interessa queste cose non ci interessa vabbè vabbè dai allora chiudiamo facciamo così dai facciamo una una sfida vincerai tu sicuramente fammi tu sicuramente guarda fammi con la rosa attuale al massimo ti faccio fare un cambio sensato cioè esce una entra un'altra dalla squadra mi fai il tuo undici titolare quello che faresti giocare tutto l'anno messo al netto di infortuni togliamo Pogba tutti così togliamo Pogba facciamo che Pogba non ci sia il tuo undici puoi scegliere il modulo che vuoi tutto un po poi io faccio il mio undici lanciamo il sondaggio vediamo chi vince e salutiamo tutti ci giociamo un caffè al prossimo eventibus perfetto va bene io dico punto sul 352 perché leggendo anche l'intervista di Allegri che è rilasciata alla gazzetta una settimana fa un paio di settimane fa forse a questo punto e anche vedendo come si è concluso il campionato credo che il modulo cioè che il sistema di Rocco abbia funzionato e quindi penso che possa essere un punto di partenza per il prossimo anno quindi partendo tra i pali ma l'hai scelto tu sei libera se vuoi puoi anche sono libera però mi punto su questo perché secondo me insomma scesi i tre perché poi ti faccio un'altra cosa scesi i tre pali secondo me il portiere titolare rimane secondo me io spero che rimanga questa stagione e secondo me è il portiere titolare difesa Gatti Bremer Danilo io metto Alexandro fuori spero che anche questa sia la visione di Allegri perché insomma l'abbiamo visto un po' in difficoltà ecco non nascondiamoci è vero ho visto che è stato fatto stato fatto vicecapitano non vicecapitano è entrato scusami ma stiamo scadendo stiamo scadendo ce lo dice lui ci dispiace che si di essere scaduti ce l'abbiamo scritto qualcosa scusami ma volevo c'è la data di scadenza e quindi niente io spero che insomma Alexandro non rientri nella difesa titolare ecco allo stato attuale delle cose per quanto riguarda il centrocampo io metto UEA quinto sulla destra e Kostic sulla sinistra cioè per me sono loro due i titolari ho letto anche oggi qualche voce su Kostic io spero che almeno un altro anno si riesca a farglielo fare a Kostic perché avere una spinta forte sulla sinistra averla sulla destra è una cosa che ci ha un po' mancato quest'anno ecco mi sarebbe piaciuto averlo già quest'anno un duo così importante poi per me il centrocampo sarà Rabiot quando appena si rimetterà in piedi perché abbiamo visto insomma che potrebbe essere in dubbio per la prima Locatelli o Rovella bisogna capire bene come sta Rovella però al momento mettiamo titolare Locatelli e Fagioli con Pogba che chiaramente se sta bene entra là esatto davanti l'attacco secondo me è Chiesa Vlau cioè sfido chiunque a dare risposta diversa tu hai la formazione titolare quella che dovrebbe essere la formazione titolare della Juve secondo me se stiamo così se il mercato finisse domani e rimanissimo così sarebbe una rosa completa ecco quindi tu sei sei aziendalista mettiamolo così sono aziendalista sì da questo punto di vista sì poi ovviamente se ti esce se ti esce Vlauic a questo punto mi sembra chiaro che il sostituto sia Lukaku ecco Jonathan David ah no ah no esatto 60 milioni fanoz non ci sono i soldi se vendiamo a 90 Vlauic prendiamo uno forte di prospettiva no forte forte va bene ok va bene Virgi va bene allora io invece cambio tutto faccio un bel 4-3-3 e gioco con Scesni Danilo a destra Cambiaso a sinistra coppia centrale Bremer e Gatti a centro campo Rovella regista Rabiot e Fagioli a destra Chiesa centro avanti di Vlauic e a sinistra Elin Junior quindi ripetiamo gli undici prima poi lancio il sondaggio per facciamolo 5 minuti di sondaggio poi chiudiamo anzi già lo lancio vai Virgi sì il mio undici è Scesni Gatti Bremer Danilo Wea Fagioli Locatelli Rabiot Kostic e davanti Chiesa Vlauic io invece schiero il 4-3-3 Scesni Danilo terzino destro Cambiaso terzino sinistro Gatti Bremer coppia centrale Rovella in mediana supportato da le mezziali Rabiot e Fagioli a destra Chiesa Vlauic punta e a sinistra Ilin Junior con Wea e Ken che sono i sostituti davanti allora vediamo ti sto battendo per ora un un 83-17 questo veramente aia schiacciante sconfitta schiacciante aia aia ma tu sei stato troppo aziendalista per una volta io mi sono mi sono tenuta aia Fagioli non ce la fa però Fagioli abbiamo messo tutti e due Fagioli se non ce la fa giocherà qualcun altro posto suo non ci cambia quello ma io ho dato il 3-5-2 io posso anche essere d'accordo che non sia il sistema di gioco congeniale per la nostra rosa però perché secondo me è quello con cui si inizia ora cerco di portare qualche punto dalla mia no no te l'ho detto che potevi fare quello che volevi potevi anche un 5-5 ragazzi Allegri non lo farà mai a parte che non sono c'è Panso un pochino di Panza ce l'ho però non ho ancora Panos per adesso ma perché anti-Allegri ma ragazzi siamo partiti da due formazioni i giocatori in rosa ci sono quindi ognuno giustamente sceglie la formazione che preferisce è chiaro che era una trappola Virg era una trappola e io ci sono cascata dentro interamente alle Iorio mette UEA al posto di healing secondo me ci sta se gioca UEA e gioca bene può giocare il bello dei 5 cambi è che al sessantesimo quello che è più stanco dei due esce entra UEA oppure UEA gioca la prima e poi entra al sessantesimo healing Chiesa si può spostare da una fascia all'altra quindi il bello è quello allora 4-3-3 UEA devo usare la Diablo va bene 3-4-3 ecco vedi alla fine potrebbe anche essere 3-4-3 ma a me piace Danilo Terzino io non capisco perché Danilo Terzino ti piace Danilo Terzino secondo me allora sicuramente più dignitoso di Alexandro questo non si mette in dubbio ma per come la vedo io poi è un parere banale potrebbe essere però da centrale secondo me ha fatto una stagione quest'anno non mi ricordavo un Danilo così secondo me Allegri gli ha dato un'altra vita quando l'ha messo centrale ma perché giocava male Terzino era un po' scolastico ma teniamolo scolastico teniamoci qualcuno che offende si si hai ragione ma io ha sempre fatto il Terzino il Terzino titolare il Brasile certo no sicuramente non lo giocare lì poi magari ci prendiamo un altro centrale difensivo insieme a Rugani se vendiamo De Winter ecco Facundo Gonzales giusto così magari non so se qualcuno forse l'aveva visto uno passare bel colpo a 2-3 milioni va benissimo sperando che però calma calma perché secondo te rimane secondo me è giusto che parta perché comunque un giocatore ancora tutto da fare non è ancora prontissimo così come e vi do una buona notizia poi vedrò di essere dimentito fate la clip Nathan il giocatore che ha preso Napoli nella Galassia nella mia Galassia Red Bull giocava nel Bragantino ecco l'ho visto un po' di volte anche lì ho fatto una ricerca ulteriore non su YouTube ma su Wisecout dove ti fanno vedere tutte le cose positive Wisecout vedi un po' tutto giocatore molto molto aggressivo che secondo me rischia un sacco di gialli quindi occhio anche a comprare la Santa Calcio che gioca tutto sull'anticipo cioè o prendo la palla o prendo l'uomo ma più le volte che ha preso l'uomo che prendere la palla secondo me ci perdono tantissimo rispetto a Kim un giocatore diverso cioè Kim era uno che comandava la difesa lui è uno mortorcinio che secondo me fatica era molto a entrare io non lo vedo nemmeno titolarissimo infatti l'hanno pagato 10 milioni Lipsi ha venduto Guardiol a 90 tra l'altro Guardiol di cui vi parlavo in tempi non sospetti il bidonazzo football manager eccetera eccetera 90 milioni il difesore più pagato della storia sopravvalutato per me 90 sono proprio tanti però con Guardiola farà bene quelle che ci sono quelle che ci sono in premier sono cifre cioè secondo me non sono neanche paragonabili a quelle di cui parliamo noi sì 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 Birgi ti ho battuta mi devi un caffè 70% 30% però vedi siamo partiti da un 13% siamo saliti al 30% la recupero allora lo zucchero lo metto io poi potremmo anche fare una scommessa a lungo termine e dire quale sarà utilizzata effettivamente ah no va bene quella non c'è dubbio che la tua voto anch'io la tua mi auto voto la tua ma sì va bene ragazzi dai ci siamo divertiti è stata una puntata diciamo summertime molto estiva però l'ingresso di Matteo ci ha dato quel boost che ha dato secondo me un senso molto più profondo la puntata andatevi a riprendere se non l'avete vista andatevi a riprendere perché dice cose molto molto interessanti svela alcuni segreti anche di conto Virgi lascio chiudere a te allora no ragazzi grazie a tutti per averci seguiti siete ancora in tantissimi nonostante siamo qua a fare le formazioni a fare il fanta formazione quindi fedelissimi i ragazzi vi ringrazio e sempre forza Juve ci vediamo presto e ragazzi dai che si avvicina a questo 20 di agosto questo 20 di agosto si avvicina non ci scarichiamo carichissimi ciao ragazzi ciao a tutti grazie ciao ciao